Salve a tutti amici, vediamo come completare la missione libera i ribelli, contatta i ribelli. Allora, la cosa più facile da fare, o meglio quella da evitare intanto, è di buttarsi a capofitto qua da questo tizio grosso, ecco quello là il secondo, non questo, perché quello ha la chiave, servirà a ucciderlo, ma non direttamente, vedete qua si ingaggia un combattimento, arrivano tutte le guardie, quindi meglio evitare scappate e disperdetele, disperdetele. Allora, dobbiamo invece stare quassù e lanciare una torcia verso quel barile, quando il tizio grosso è lì accanto. In questo modo esploderà il barile e lo farà fuori. Quindi vedete dove sono, a sinistra, da dove sono sceso. Ecco, adesso possiamo scendere e prendergli la chiave. Poi decidiamo se uccidere altre guardie, ne paraggio oppure no, ad esempio questa qui lo posso anche fare. Ok, ma la cosa importante è alle mie spalle andare a sbloccare la porta per salvare il ribelle, quindi sblocchiamo, entriamo qui e liberiamo. Perfetto. Prendiamo un po' tutto quello che c'è, anche per recuperare la salute, se l'abbiamo persa. E andiamo a vedere dov'è il secondo ribelle, sono tre in totale. Allora, da qua non lo vedo, qui c'è una guardia però. Questa la faccio fuori. Possibilmente di nascosto, sì, perfetto. Eccolo là. È attraverso questa struttura, quindi passiamoci attraverso. Prendiamo come al solito tutto, non fa mai male. E qua ci sono alcune guardie, ma ci sono varie possibilità per farle fuori di nascosto. Vi consiglio di sfruttare le carriole di fieno. Ecco qua, quindi entriamo nella prima. E fischiamo, semplicemente per attirare l'attenzione di ogni guardia. E quando si avvicina, ovviamente, la portiamo dentro, assassinandola. Ok, quella là è di spalle, facilissimo. Ecco, questa però mi ha quasi visto, quasi, sono due. Quindi di nuovo, barile e barile. Carriola, fischio. Non ho finito con te. La prossima volta. Ok, non mi ha visto. Comunque è fattibile anche il combattimento classico con questi. L'ultimo. Fischiamo anche con lui. Cos'è stato? E ce ne siamo liberati. Sempre stessa tecnica, uno alla volta. Perfetto, adesso possiamo andare a liberarlo. Ok, dove si trova l'ultimo? Sulla nave. Là, davanti a noi. Quindi andiamo sulla nave. Io lì ho già ingaggiato un combattimento, mentre cercavo cose. Quindi li ho fatti fuori. Però, insomma, erano un paio. Niente di che, niente di difficile. Potete usare anche il combattimento diretto, volendo. Ed eccolo qui. Ora, per fuggire, per completare la missione, vi conviene arrampicarvi da qui. Sempre. Quindi, evitando di tornare sulla terraferma. Ecco qua, in questo modo. Sempre sull'acqua. Evitiamo tutto. E passiamo da qua. E ci siamo. Abbiamo completato la missione. Un saluto.